Così poco resta di me, del mio finito corpo, di credulità e di speranze da donarti. Unica voce rauca, molte rughe e occhi stanchi e nessun superstite da portare in salvo. Un poca forza di regare avanti il pasto e avanti gli anni. Racconti e ricordi di retorica sature e di invenzioni creare un mito senza precedenti. Un essere immortale che già muore, addirittura impaurito della morte. Cosa donarti e come, se non silenzio, trantumare dai miei gesti gopio. Una sedia, un tavolo, una parete, ricerca come l'unico sostegno, e non di già, di questo mondo intero. Cosa donarti, se non una fuga, per quanto poco consapevole e già scontata. Grazie. 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 Grazie.